Sul punto di partenza c'è Roman, che riceve un pallone sporco ampiamente all'interno della propria metà campo, su quello di arribo. C'è Martin Palermo, che appena vede la pelota arrivare verso il destro del numero 10, parte come una locomotiva lanciata a bomba verso l'area madridista. La palla parte, educata, rimbalza due volte prima di arrivarci. Palermo arranca col fiato corto perché Jeremy va a velocità doppia rispetto a lui, ma non molla. Sa di avere una sola possibilità per fulminare Casillas, ma lui è l'ottimista del gol e non considera mai l'eventualità che gli possa andare male. Deve calciare prima che il pallone tocchi terra per la terza volta. Lo fa in diagonale, forte, chiaramente col mancino. 2-0 al quinto minuto di gioco.